bella regà qua è Savix che vi parla e benvenuti perché è nuovo nel canale oggi vi voglio far vedere un outfit simpatico ragazzi e lo andremo a fare con il pupazzo di neve quindi per fare questo outfit dovremmo sbloccare il pupazzo di neve e andare poi nello stile ragazzi e fare modifica aspetto vi lascio il link per sbloccare il pupazzo di neve se non l'avete visto a questo punto regà una volta che siamo qua dovremo andare a indossarci la maglietta crew quindi abbigliamento mettiamo maglietta crew e sbada bam regà si baggerà il signore e il cappello ci flutuerà sulla testa quindi decidete voi se tenervolo con la maglietta crew o col completo intero da pupazzo e il cappello staccato dalla testa la cosa bella regà che quando noi andremo a fare questo glitch potremo passare il cappello su tutti i nostri outfit col glitch del cannocchiale e si baggerà e sarà staccato dalla testa quindi ragazzi non ci incischiamo e una volta che spawneremo i lobby ragazzi la situazione sarà questa che praticamente saremo con l'outfit il cappello baggato e i pantaloni del pupazzo di neve allora ragazzi potete andare a tocchignare la maglia no potete andare a tocchignare le gambe no possiamo andare solo a recuperare il cappello a meno che non vi tenete pupazzo di neve ragazzi con il cappello staccato questo ve lo lascio decidere a voi vi faccio vedere che al cannocchiale riusciremo a passare il cappello su tutti gli outfit ragazzi lo so che lo sapete fare tutti ma ve lo faccio vedere per chi non è capace quindi corriamo verso il cannocchiale ragazzi in spiaggia schiacciamo freccia a destra e teniamo premuto il menu interazione a questo punto andiamo su stile e andremo a indossare l'outfit dove volete andare a mettere il cappello ora io vi faccio vedere così a caso con un outfit a babbo giusto per farvi vedere a titolo illustrativo ragazzi quindi ne scelgo uno a caso e una volta che l'ho scelto mi allontano e sbada bam avremo il cappello bagato spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like se è stato così attivate la campanellina ragazzi e mettete notifiche su tutte così aiutate il mio lavoro e vi arriverà la notifica quando pubblico un bel video bella raga alla prossima grazie